Susanna, dove sono le matite colorate? Sono in camera mia, sul mio tavolo. Non riesco a trovare le tue matite colorate. Esse sono accanto al mio computer. Davanti alla lampada. Ah sì, sono qui. E gli evidenziatori dove sono? C'è un cassetto tra il mio letto e il mio scaffale. Sono in fondo al cassetto. Grazie.